Ciao a tutti, ritorno di caperezza sul pezzo, no capi i pezzi, caparizza, ecco mi chiamo caparizza, il vostro youtuber di fiducia e che ad ogni cazzata che dicono in giro deve dire la sua, la sua, la sua che è poi una cazzata anche la sua, sono tutte cazzate, viviamo in un mondo di cazzate e proprio per rimanere in tema di cazzate, grande, cioè far ridere far ridere, ridere in provincia di Parma, a Parma, sono stati sequestrati ben 700 kg di marijuana light, no raga non ce la posso fare, 700 kg di marijuana light, hanno sequestrato l'erba che non sballa, raga, cioè allucinante, questo è uno scacco fortissimo, scacco matto alla mafia, scacco matto alla mafia ragazzi, ma dove siamo? Grande Salvini, grande Salvini, hai fatto qualcosa di, cioè i mafiosi secondo me ti stanno ringraziando, e ti voteranno in massa, ecco da dove, potrebbero arrivare da qua i voti, vabbè, oddio no raga, che mondo di cazzate.